Pronto, Vigili del Fuoco Firenze? Vorrei esprimere a voi, Vigili del Fuoco, tutto il dolore di quello che è successo con i vostri colleghi. La mia famiglia è vicina a voi e alle tre salme dei vostri compagni con sentimenti cristiani. Vi siamo veramente vicini e si vive anche noi nel dolore. Mi auguro che a quelli che sono rimasti feriti, gli auguro di una pronta guarigione che presto possino ritornare fra le loro famiglie. La ringrazio veramente tanto di questo pensiero. Grazie, non c'è di che, io ho sentito il dovere di farlo perché sono rimasto veramente colpito. Ecco, la mia famiglia lì è vicino. Certo, grazie mille, sono cose che fanno piacere, grazie davvero. Ecco, grazie, grazie. 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 Grazie.